Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ebbene sì, per la premissima volta in oltre 15 anni da carriera di lettore, ho letto un manga shoujo. E questa è una frase che sinceramente non mi sarei mai aspettato di dire in tutta la mia vita, eppure eccoci qua. È proprio vero che la vita riserva delle sorprese. Detto questo, siccome non voglio dilungarmi troppo in chiacchiere, correte in cucina a prendere dei popcorn e una bibita fresca per potervi gustare al meglio quest'ultimo contenuto. Perché quest'oggi voglio parlarvi di una serie che mi ha davvero stupito, ma prima di farciò come sempre mandiamo la nostra fantastica sigla. La premissima cosa che voglio fare però è quello di spiegarvi cosa indichi il termine shoujo. Leggo testuali parole, anche perché ho provato a fare questo pezzo 1700 volte e non ci riuscivo perché la mia memoria oggi fa schifo. Il termine giapponese shoujo indica una categoria di manga e anime indirizzati principalmente ad un pubblico femminile, a partire dalla tarda infanzia fino alla maggiore età. Aggiungo anche che un manga viene targhettizzato sotto questa etichetta se appunto viene pubblicato in una rivista che si occupa appunto di pubblicare manga shoujo. E spero che questo piccolo riassunto vi sia servito. Detto questo, entriamo nel succo vero e proprio del discorso. Se mi seguite da un bel po' di tempo saprete anche quale sarà il manga in questione, infatti ne ho avuto modo di parlare più volte sul canale. E non potevo che non riferirmi a Mars di Fuyumisorio. Ecco che infatti il primo volume di questa nuova edizione italiana pubblicata da Star Comics a prezzo di 8€. La storia ha due protagonisti principali, Kira Aso e Rai Cascino. Lui è un giovane scapestrato che vive la giornata, mentre lei è una studentessa la cui passione è l'arte. Un bel giorno, mentre quest'ultima stava dipingendo, le loro strade si incorceranno e da qui nascerà una bellissima storia d'amore. Ma perché mi sta piacendo così tanto? Per una serie di motivi che adesso vi andrò a spiegare, a partire dai suoi due protagonisti. Lui è un ragazzo molto misterioso che si porta dietro tantissimi misteri, tra cui il suo passato sconosciuto ai più. Mentre lei, una ragazza apparentemente gentile e solare, nasconde all'interno di essa alcuni demoni. Il fatto che ci siano così tanti misteri, soprattutto nei due protagonisti, è uno dei motivi per il quale non vedo l'ora di leggere la storia dell'Asorio volume dopo volume, mese dopo mese. Perché comunque è un qualcosa che giova alla storia. I loro misteri servono per tirare avanti lo sviluppo dei personaggi, ma soprattutto servono per andare avanti nella storia. Scusate la piccola ripetizione. Per quanto riguarda invece i comprimari, alcuni sono davvero ben sviluppati, altri invece secondo me potrebbero avere una caratterizzazione migliore. E poi la storia, nonostante sia ambientata comunque negli anni 90, poiché il manga è abbastanza vecchiotto, rimane tuttora attuale. Al suo interno infatti sono trattate delle tematiche come per esempio la violenza, il bullismo e altre cose abbastanza pesanti, a dire il vero, che non voglio starvi a spoilerare per motivi di trama, poiché se no non potreste godervi al meglio la lettura. E tutti questi temi, seppur siano trattati con delicatezza da parte dell'autrice, hanno invece grande impatto sulla psiche dei personaggi. Infatti durante i vari capitoli incomincieremo ad intravedere tutti i traumi che i due protagonisti hanno subito nel corso della loro vita e quanto abbiano influito sul loro carattere ma soprattutto sulle loro decisioni. E questa è una cosa che sinceramente mi ha fatto anche impazzire, per il semplice motivo che la storia è davvero brava anche a lasciare indizi nel corso delle varie pagine per poi mettere insieme i pezzi a un determinato punto e questo ti farà davvero rimanere a bocca aperta perché sebbene tu sospettassi qualcosa non ti aspetteresti mai che quella cosa sia accaduta davvero. Per quanto riguarda invece i ritmi della narrazione, ci troviamo davanti ad una montagna russa nel vero e proprio senso della parola. Infatti andremo ad alternare dei momenti abbastanza coincitati con dei momenti molto blandi e calmi. La cosiddetta calma prima della tempesta, no? È una cosa che ho apprezzato molto, perché l'autrice riesce comunque a prendersi sui tempi senza mai annoiare. Unica pecca, se così si può chiamare ma si tratta puramente di gusti personali, è il disegno. Ho avuto già modo più volte di dirlo soprattutto nei video sulle migliori letture, ma il tratto della Sorio non riesce a convincermi. Però ripeto, il fatto che non mi piaccia non implica il fatto che faccia schifo oggettivamente. E se devo essere sincero, lo trovo adatto alla storia. E questo in breve era il mio pensiero su Mars, un'opera che riuscita a conquistarmi sin dal primo volume. Prima di concludere però questo video volevo fare una piccola riflessione personale. Incomincio dicendo che dovete fregarvene dei target, sono solo un'indicazione che i giapponesi hanno voluto dare. Chiunque può leggere qualsiasi cosa e nessuno può andare a dire a una determinata persona che non può leggere un determinato volume. Perché siamo in un mondo libero e ognuno appunto può leggere quel cazzo che gli pare, scusate la scurrilità. E lo dico da persona che fino a qualche tempo fa si rifiutava più per preconcetti mentali di leggere un manga appartenente a questo target. Ma liberatevi di questo peso e leggete qualsiasi cosa vi vogliate. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a mettere un bel mi piace, iscrivetevi al canale, bla 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 bla. Vi ricordo inoltre che in descrizione sono presenti il link per il mio profilo Instagram e per il gruppo Telegram. Venite su queste due piattaforme così possiamo parlare un pochino. E attivate la campanellina per restare sempre aggiornati. Detto questo noi ci vediamo domenica in un prossimo video. Ciao!